Un ricco. I ricchi li disprezzava e un giorno lo interrogai dicendo, signore, cosa devo fare per raggiungere la pace dello spirito? Mi disse di donare i miei beni ai poveri e di seguirlo, ma non aveva nulla lui e per questo non conosceva la libertà e la sicurezza del possesso, né la dignità e il rispetto di sé che ne deriva. Nella mia casa ho 140 tra servi e amministratori, alcuni si occupano dei boschi e dei vigneti, altri guidano le mie navi verso isole lontane. Ora, se li avessi obbedito donando i miei beni ai poveri, che ne sarebbe stato di quei servi e di quegli amministratori e delle loro mogli e dei loro figli? Si sarebbero anche essi ridotti a mendicare alle porte della città o nel portico del tempio? No, quell'uomo non conosceva a fondo il segreto della ricchezza. E poiché lui e i suoi seguaci vivevano delle generosità altrui, riteneva che tutti gli uomini dovessero fare altrettanto. Vedi, c'è una contraddizione e un enigma. I ricchi dovrebbero cedere i loro beni ai poveri e i poveri gustare il pane e il vino dei ricchi prima che questi li abbiano accolti alla loro mensa. E il padrone della torre dovrebbe offrire ospitalità ai suoi inquilini prima di proclamarsi signore della propria terra? La formica che fa provvista di cibo per l'inverno è più saggia della cicala che oggi canta e domani patisce la fame. Sabato scorso uno dei suoi seguaci ha detto nella piazza del mercato, alle soglie dei cieli, nel luogo dove a Gesù è consentito posare i sandali, nessun altro è degno di poggiare il capo. Ma i sandali? Io chiedo sulla soglia di quale casa avrebbe potuto posarli quell'onesto vagabondo. Non ebbe mai una casa e tantomeno una soglia. E spesso neppure li calzava i sandali.